bella a tutti ragazzi oggi come promesso vi porto il ritorno tra manchester city e manchester united ma giocheremo in casa del vabbè lasciamo perdere partiamo con questa partita che già sono carico al massimo ricordo che l'andata è finita con l'una 1 ok giochiamo a campione ma mettiamo i nostri solidi cinque minuti oltre a ford va bene così ok comunque vedo che vi è piaciuto molto il video del trolling su code e ne sto caricando un altro quindi il divertimento continua quindi spero che vi divertiate con i miei video ok questo qua l'ho ucciso questo qua pure ok andiamo andiamo dai l'andata è finita 1 a 1 dobbiamo fare almeno due gol almeno due gol non dico tanto ma almeno due gol dobbiamo farli sicuro ok ho lasciato le squadre come c'è la squadra come come è perché mi è piaciuta l'andata specialmente sterling mi è piaciuto molto ok come manchester city o dai non ci credo sbagliato dai come dai non ci credo impostazione senza seleziona lato dai che palle ok sì ok dai dobbiamo giocare con manchester city ho sbagliato ragazzi ho sbagliato dai ridiamone il pallone invece no stavo scherzato ok bene vai dobbiamo giocare bene dobbiamo giocare bene bene occhio è il kun è il kun la donna attenzione è il kun prova un po' di finta il kun oddio oddio ecco qua la ripartenza del manchester united ma non li lasciamo passare a chi l'ha passata dai non ho capito a chi l'ha passata però va bene così va bene così oddio oddio è il kun dai non ci credo questa diciamo che il più bel ritorno che sto facendo finora non dico dobbiamo provare a vincere ma almeno portarla ai rigori però noi proviamo a vincere ovviamente occhio 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 a show occhio a show se la grossa fa male buono buono iaia zabaleta buono occhio ah ah abbiamo sbagliato ad andare avanti così occhio agguero e il kun madonna devono stare molto attenti agguero eh che credo che sia in forma oggi occhio occhio a show occhio a show mamma mia che pallo che ha preso mamma mia che pallo che ha preso quel pallone entrava eh quel pallone entrava occhio dio dio occhio dai ho sbagliato a far la scivola da la occhio se prendo pallone con sterling riparto in velocità eh occhio a tutti gli spazi buono nostra nostra buono 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 sterling occhio sterling che veloce e fallo eh buono bene così dai ragazzi 5 like per favore 5 like li voglio dai non vi costa nulla non vi costa nulla serie 64 in questo canale lasciate almeno 5 di like oh cioè non vi costa niente ma poi iscrivetevi se non vi siete iscritti eh cioè come vi iscrivete ai canali degli altri youtuber iscrivetevi anche al mio eh non è che succede qualcosa eh cioè non è che vi faccio pagare per l'iscrizione eh occhio oddio che bel passaggio oddio aia mamma mia gioart bene così vabbè bene così no de calcio d'angolo no però bene così che la parata occhio di pugno il portiere mica ho visto il portiere che si era buttato io eh io ho visto fernandinho che andava di testa però vabbè occhio che gol che si è mangiato che gol che si è mangiato mamma mia che culo mamma mia che culo oddio alcune alcune donna dai che siamo in attacco siamo in attacco ragazzi siamo in attacco buono buono yaya dai yaya sveglia sveglia yaya dobbiamo fare più gestione della palla occhio dai che è il culo madonna occhio madonna eh qua mata ci ha purgato all'andata eh però noi li abbiamo purgati con un bel gol di sterling che vi è piaciuto molto cioè non potevo fare nulla dove per forza andare all'attacco cioè dove per forza penetrare perché sennò che la perdevo subito la palla se la passavo quindi ho dovuto per forza avanzare e il kun e il kun passa in mezzo a due oddio occhio occhio al kun eh il pubblico è impazzito c'è il pubblico è impazzito eh lo united sta a fa più passaggi eh 91% mica è poco eh mamma eh non riusciamo a lievargli il pallone ci stiamo a provare in tutti i modi ragazzi ci stiamo a provare in tutti i modi il pubblico è in delirio lo united ha vissuto una bella andata eh noi diciamo alla fine abbiamo siamo riusciti a pareggiare però oddio madonna ma il guero sta proprio scatenato oddio occhio occhio le faci questo pallone occhio eh possesso velo united mi sa che sta a fa più possesso lui che nemmeno il barcellona quando gioca contro l'avellino non so che cazzo c'entra però è così cioè per fare un paragone strano dai oddio occhio buono cazzo d'angolo no bene quarantacinquesimo due minuti di recupero ed è finita il primo tempo dai 0 a 0 primo tempo eh niente partiamo con questo secondo tempo siamo ancora sullo 0 a 0 e niente se fra un po sentite la voce di mio cugino che ha tipo sette anni non ci fate caso perché dovrebbe venire qui a casa mia vorrebbe giocare un po con me oddio quindi non ci fate caso se vi vuole salutare vi saluta e quindi è un motivo in più per lasciare un like e comunque è bravo a giocare con lui quindi non so che potenzialità c'è quindi occhio agguero alcune 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 rientra alcune 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 al gol del 1 a 0 al 52esimo e messa nel cuore c'era il rigore a si 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 c'era il rigore qua il con agguero si sapeva già che doveva segnare si sapeva stava giocando molto bene ma molto bene stava giocando 1 a 0 city occhio oddio ci sono riuscite a levare il pallone e mo ci furgano eh fallo di mano eh vero ecco ho parlato che è dato il giallo aia no ho fatto una cazzata no ho fatto una cazzata levate sto pallone da qua dai company aia madonna madonna cioè loro hanno fatto 7 tiri noi un tiro solo abbiamo segnato eh non so come abbiamo fatto però oddio dai la stava a passare non ci credo ecco qua ecco qua la ripartenza ecco qua la ripartenza madonna company sempre in anticipo oddio no a me mi stanno bene così quindi non faccio nessun cambio per ora ma penso che non lo farò proprio i cambi attenzione ma no oddio sterling no era precisa bastardo non dovevi io frocio non dovevi eh show levate eh lo dice proprio il nome show levate eh occhio occhio levateci sto pallone grande company occhio al cunna occhio al cunna che è pericoloso è molto pericoloso gli hanno usato e l'hanno usato non vi dico che cosa perché sennò sono troppo volgare però vabbè eh fallo ma non ci concediamo nulla Joe Hart la tiene e la passa da Aguero Aguero prova a scappare Aguero prova a scappare Aguero prova a scappare Aguero è il cunna si gira è il cunna se ne va se ne va è il cunna è rigore oh e vabbè vero non fischia un rigore però eh non fischia un rigore sono entrato in aria mi butti per terra e non è rigore scusa il pallone non me l'ha levato c'è il pallone l'ho perso quando lui mi ha buttato per terra vabbè eh lo si fa rivedere un'altra volta il cunna eh lo si fa vedere di nuovo eh 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 uccidimi dai cioè spaccami le gambe che ne so dai 78esimo ancora sull'1-0 con il gol di Aguero che ha giocato una bella partita occhio buono 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 entra in aria Davide Silva 2-0 all'ottantaduesimo ci bastavano due gol e ne abbiamo fatti meglio di così non si può meglio di così non si può dai 2-0 ci abbasta mettiamo no difensiva dai difensiva e siamo a posto così a me mi sta bene questo 2-0 eh occhio 2-1 2-1 ma non dobbiamo preoccuparci perché siamo ancora sul 3-2 siamo sul 3-2 oddio 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 donna occhio occhio non vogliamo il gol del 2-2 ci va bene il 2-1 ci va molto bene il 2-1 occhio levate il suo pallone da qua grande company grande company vince and company occhio eh fallo fallo è il primo fallo che ti faccio cioè più o meno è il primo fallo che ti faccio quello più giusto che era da fischiare però oddio via via levate la palla da là per favore levate la da là via no il Kun non dove fa sta cazzata la dovevi prenderla aia buono due minuti di recupero due minuti di recupero teniamola teniamola buono così e il City si aggiudica questo derby per una misura di un gol di differenza sul il risultato delle due partite è di eh 3 a 2 quindi ci potrebbe andare anche bene e niente vediamo subito chi è il migliore in campo allora vediamo un po' allora il migliore in campo è Joe Hart che ha preso eh 9.0 Aguero ha preso 7.5 stranamente Vincent company 6.5 che diciamo che è riuscito cioè non ha fatto i contrasti vinti ah Aguero ne ha fatti 2 su 2 buono Navas ne ha fatti 1 su 2 ah ok anche Fernandini ne ha fatti 2 su 2 ok 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 e niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto allora anzi prima di finire qua abbiamo fatto 2 tiri e 2 tiri in porta e 2 gol precisione tiri 100% per questo video voglio 5 like 5 cioè non so se rendo 5 like e niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video lasciate i like eh iscrivetevi se ancora non l'avete fatto commentate con i suggerimenti da darmi per le prossime partite e niente ragazzi ci sentiamo alla prossima